Bene amici, oggi scopriamo insieme la Protagon 25 Space, una barca con una lunghezza fuori tutto di 8 metri e una larghezza di 2,50 metri quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore, motore che vede una configurazione con singolo fuori bordo con una potenza minima a partire da 200 cavalli fino ad arrivare a un massimo di 300. Entrambe le plancette sono dotate di questa maniglia tintibene che agevola l'uscita dall'acqua, quindi entrambe le aree possono essere utilizzate indipendentemente dal momento che la scaletta di risalita è fornita di serie all'interno della plancetta di sinistra, ma è possibile installarne un'altra sulla pedana controlaterale. In più è possibile installare una pedana che copre la zona del pozzetto motore, in questo modo è possibile muoversi agevolmente da un lato all'altro, con lì installato in basso il tappo del serbatoio del carburante, mentre qui in basso c'è la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa. Non mancano le gallocce per l'ormeggio posizionate su entrambi i lati e l'accesso a bordo è preferenziale con un corridoio sulla sinistra, vedete, in questo modo è facilissimo accedere in pozzetto e sfruttare la zona di poppa. La zona di poppa ha un divanetto a forma di L piuttosto ampio che è gavonato al suo interno, sollevando il gavone di poppa è possibile accedere al vano tecnico con batterie, impianti, pompa di sentina e serbatoio dell'acqua, mentre il gavone laterale è vuoto al suo interno in questo modo da poter riporre gli oggetti. In più l'intera zona di poppa è modulare perché è possibile abbattere lo schienale del divanetto per raddoppiare la sua estensione e inserendo la predisposizione con base fissa con tavolo è possibile creare un'unica dinette oppure abbassare il tavolo all'altezza dei cuscini, raddoppiare la sua estensione e aggiungere altri due cuscini per creare un unico grande prendisole di poppa e guardate è davvero incredibile per la sua categoria. A terra è installato il rivestimento in eva che fornisce un ottimo grip, mentre qui c'è il gavone che dà accesso al serbatoio per le acque nere perché abbiamo un WC all'interno della console ma lo vedremo tra un istante. Vi mostro anche l'altezza delle murate, guardate arriva all'altezza del mio fianco quindi siamo sempre ben protetti perché l'altezza prosegue per l'intera lunghezza dello scafo quindi siamo sempre ben riparati e soprattutto c'è questa battagliola integrata che permette di dare piena protezione e avere una salda presa in qualsiasi punto della barca. Poco più avanti c'è il blocco seduta, blocco seduta in vetro resina con alle spalle il vano cucina esterno, sollevandolo vediamo che c'è in questo allestimento un lavello con relativo miscelatore e piano d'appoggio ma opzionalmente è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura. In questo allestimento vediamo la soluzione con la cucina esterna ma è possibile sostituire l'intero blocco per avere un ulteriore divanetto per due persone che può essere anche coibentato al suo interno. Sul lato di dritta c'è il frigorifero a carrello mentre anteriormente c'è la postazione di comando seduta che vede quindi due schienali fissi indipendenti e il relativo boster dedicato in questo modo sia il comandante che il copilota possono scegliere se governare in modalità appoggiareni come in questo caso oppure in seduta tradizionale. Quindi io mi pongo al comando, vedete ho il timone ben raggiungibile davanti a me, c'è il gradino puntapiedi strutturale integrato nella console anch'esso rivestito in eva, una comoda maniglia tinti bene per il copilota per potersi reggere anche durante la navigazione veloce perché la carena è dotata di un doppio step che permette quindi alte performance, un ottimo assetto di navigazione anche con mare mosso. Il resto della plancia è totalmente personalizzabile secondo le proprie esigenze, qui vediamo che ci sono gli interruttori on off disposti su un unico livello e come vedete il resto è totalmente customizzabile. Qui non manca un doppio portabicchiere relativo alloggio per gli smartphone, in questo modo possono avere uno spazio dedicato senza rischio che cadano a terra. In basso c'è una comoda borsa porta oggetti e soprattutto impermeabile, in questo modo anche in caso di schizzi a bordo non abbiamo nessun problema per i nostri documenti. E guardate qui l'altezza del parabrezza, io sono totalmente in piedi, il parabrezza arriva all'altezza della mia fronte quindi riusciamo a essere sempre ben protetti ma al tempo stesso è inclinato quindi non sacrifica il profilo aerodinamico della barca. Qui ci sono anche altre due maniglie tentibene che in combinazione appunto con la battagliola interna permette di passeggiare tranquillamente nella zona di prua perché vedete la larghezza resta piuttosto adeguata e riusciamo ad arrivare senza difficoltà nella zona di prua. Anteriormente al castero si trova questa seduta per due persone con schienale fisso e doppia maniglia tentibene e relativo portabicchiere ma soprattutto si può sollevare, vedete in questo modo è possibile accedere al vano interno con WC, guardate qui piuttosto largo perché la console è generosissima, entrando all'interno con questo gradino vediamo che c'è il WC rivolto verso poppa e sul lato di sinistra invece il lavello con il relativo miscelatore che si può estrarre per avere una doccia, botola di spezione in basso, gavone stagno per l'impiantistica del bagno e soprattutto doppio bloc per favorire pieno ricircolo ed areazione interna e vi mostro anche l'altezza perché io riesco a stare comodamente seduto c'è tanto spazio al terzo interno di circa un metro e trenta ma soprattutto possiamo installare una tenda che si solleva sollevando il portello anteriore quindi avere l'intera zona coperta quest'area qui e quindi avere piena privacy anche per utilizzarlo come vano spogliatoio. Come vedete in questa configurazione i layout consentono un movimento agevole nella zona di prua perché noi riusciamo appunto a passeggiare grazie al piano di calpestio che è totalmente libero da ingombri e soprattutto vi faccio vedere come non ci siano gradini né dislivelli quindi veramente comodo e agevole spostarsi lungo la barca e in più è possibile estendere anche l'area di prua perché ci sono due ripiani in legno che possono essere installati separatamente con relativo cuscino e quindi avere un'unica area prendisole anche nella zona di prua quindi sommandolo anche all'estensione di pop abbiamo un doppio prendisole a bordo. Il divano anteriore inoltre è gavonatozzo interno quindi sollevando è possibile accedere a un ulteriore gavone oltre al portello presente in basso che aumenta lo spazio di stivaggio. Arriviamo quindi nella zona di prua vediamo che c'è il musone con la pedana ricavata dal portello del verricello rivestito anch'esso in eva in questo modo è possibile agevolare la salita e la discesa quando si ormeggia di prua tenendo presente che l'eva in questa zona è fornito di serie. Aprendolo inoltre è possibile accedere al vano verricello quindi vedete in questo caso c'è la predisposizione per l'installazione del verricello centrale e soprattutto il musone è ben visibile dalla plancia di comando in questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando lì al timone. Completa la dotazione di prua, la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro e la doppia luce di via. E quindi cari amici questa è la Protagon 25 Space come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team! Grazie a tutti!